Ha dato fondo ai suoi risparmi per regalare luminarie in due delle strade principali della città, Corso Garibaldi e Viappia. La città è Brindisi, la stessa che lo ospita da cinque anni. Sì, perché Andrea Fanidulo, Tarantino di Nascita, ma residente a Poliniano Ammare, da tempo vive il lavoro a Brindisi come direttore commerciale di una società. Ma c'è un episodio particolare che lo ha spinto a fare questo gesto. Nasce con due bambini che un paio di settimane fa passeggiavano sul Corso Garibaldi e cercavano luci per fare le foto con una mamma. E ho assistito a questa scena e mi ha colpito molto. Ma quello di Andrea è soprattutto un modo per dire grazie alla città che l'ha adottato. Mi hanno dato veramente tanto a livello proprio di affetto, di stima, di amicizia. In una situazione del genere, in un momento del genere, essendo io un grande fan delle luci, delle luminarie, del Natale, mi è venuta questa idea molto semplice. Andrea vive di un normale stipendio, ragione per cui in molti gli hanno chiesto perché mai spendere soldi per una città che non è neppure la sua. Le spiegazioni le ha affidate ad una lettera al sindaco Rossi e ai brindisini. Avevo letto l'annuncio dell'amministrazione in cui chiedeva se ci fossero imprenditori, persone che volessero aderire al progetto per realizzare, insomma, per addobbare, abbellire la città. E dato che mi chiedevano il perché volessi fare questa cosa, ho scritto due righe. Mi sono permesso di dire in queste due righe il mio grazie alla gente e il perché l'ho fatto davvero senza alcun fine. È un momento difficile per tutti, è un periodo davvero difficile. Magari anche fare una passeggiata, vedere le strade un po' più illuminate, credo che faccia bene a tutti.